Allora, buonasera ragazzi, è finita adesso adesso Lecce e Juventus, vinciamo 3-0 al Via del Mare, ci portiamo al primo posto scavalcando momentaneamente l'Inter che in questi giorni è impegnata con la Supercoppa e che recupererà la partita tra un mese, il 27-28 febbraio, il 28 mi pare. E niente, per quanto riguarda la partita io ho visto poco e niente, avevo altro da fare quindi sono riuscito a vedere poco, però da quel poco che ho potuto vedere io continuo sull'onda di quello che ho detto nelle ultime uscite, quindi quello che ho detto per tutte le partite del 2024 sostanzialmente, perché da quando è iniziato l'anno pare che questo cortomuso non ci sia più, pare, dico pare, almeno per il momento perché io come sempre aspetto un pochino prima di dire se una cosa è definitivamente sparita o comparsa, quindi io almeno per il momento dico pare, pare essere scomparsa, ancora non definitivamente, vedremo, speriamo di sì, però almeno per il momento pare, pare, pare essere scomparso il cortomuso. Una Juventus che, come ho detto anche nelle scorse uscite, è una squadra che se non si fa prendere dalla paura, se non si fa prendere dall'ansia, se dopo aver segnato il gol dell'1-0 non si rintana tutta dietro a difesa del vantaggio in maniera abbastanza provinciale, è una squadra che se gioca a calcio il suo lo sa fare benissimo, ha maggior ragione con squadre di medio-bassa classifica come il Lecce, a cui tu mediamente devi fare 2-3 gol a partita quando giochi contro questo tipo di avversario, e stasera la Juventus ha fatto il suo, non ha fatto una grande partita, non ha fatto una partita da schifo come abbiamo visto tante in questi due anni e mezzo con Allegri in panchina dove abbiamo fatto gol e poi ci siamo rintanati dietro, sperando nel cortomuso, nel 1-0 o se gli avversari fanno gol 2-1, quindi una Juventus che non ha strafatto, ha fatto il suo contro un avversario, ripeto, di caratura non eccellente, un avversario di medio-bassa classifica sempre con tutto il rispetto, dove tu sei andato lì a casa loro, hai fatto il tuo, hai fatto 3 gol e l'hai rimandato a casa, tranquillamente. Una Juve che sì, bisogna dire però una cosa, c'è da dire che comunque in queste ultime partite l'aspetto anche del gioco è un pochino migliorato, mi sembra una Juventus più sicura, una Juventus più organizzata, una Juventus i cui giocatori sanno adesso a chi passare bene o male il pallone, prima c'era proprio il vuoto totale, si faceva Melina nella prova a metà campo, lancio lungo come andava, andava, invece adesso, sì, comunque questo si fa, quelle poche volte comunque stasera il Lecce, soprattutto all'inizio della partita, diveniva a pressare alto, quindi preferivamo questa via, però quando comunque il Lecce sarà stancato di pressare siamo riusciti anche a tenere palla al piede e cercare di impostare l'azione dal basso in maniera costruita, in maniera costruita e questa è una cosa che la Juventus fa sempre con più intensità, sempre con più decisione, sin dalla primissima partita di questo 2024 contro la Salernitana e poi nelle ultime uscite, ripeto, è andato sempre più consolidandosi questo concetto. Una Juventus che fa tre gol, due con Vlaovic, tutti nel secondo tempo, perché nel primo una Juve sicuramente migliore rispetto a Lecce, che però non era riuscito a trovare il gol, ha avuto tre occasioni importanti, una dopo 24 secondi con Vlaovic che poteva fare meglio davanti alla porta, un'altra con Kostic che da posizione un po' defilata ha tirato alto non di tantissimo, e poi c'è stata un'altra occasione su calcio d'angolo con McKennie che non è riuscito a trovare la porta, poi nel secondo tempo siamo rientrati più decisi, Juventus che ha trovato subito il gol con Vlaovic l'1-0 su azione, il secondo dopo un tiro di Hildiz centrale respinto, Cambiaso ripropone in mezzo per Vlaovic che insacca al volo di sinistro, il secondo gol arriva da un cross, mi pare di, non mi ricordo adesso se di Cambiaso, con McKennie che la spizza e Vlaovic che insacca in rete da pochi centimetri, infatti c'era il dubbio se il gol fosse di McKennie o di Vlaovic, invece rivedendolo è di Vlaovic, che fa un gol molto simile a quello che aveva fatto contro il Torino l'anno scorso all'andata, in casa del Toro, e poi il 3-0 arriva su un calcio piazzato battuto da Eileen Junior che Bremer mette in rete di testa svettando più in alto di tutti, confermandoci ancora molto abili sul calcio piazzato, però quello che salta più all'occhio a tutti è che in queste ultime gare un'altra cosa che sembra aver ritrovato è il grande apporto degli attaccanti, in modo particolare di Dusan Vlaovic, che è arrivato a 10-11 gol in campionato, mi pare, con questa doppietta di oggi, quindi comunque si conferma il fatto, come ho detto anche contro il Sassuolo, che Vlaovic è uno di quelli proprio in maniera principale, che se uno, che se la squadra gioca libera, se la squadra gioca comunque senza ansia, senza pressione, lui è uno di quelli, è un po' come il Rabiot, dico sempre anche la stessa cosa di Rabiot, se la squadra è senza ansia, Rabiot gioca bene, se la squadra è con l'ansia, Rabiot va nel pallone, così anche Vlaovic, forse anche più di Rabiot, perché Vlaovic è uno che si nervosisce anche molto facilmente, quindi se la squadra non c'è un nervosismo generale, Vlaovic è uno di quelli che gioca proprio in maniera sciolta, tranquilla, e da qualche partita a questa parte, proprio da quando la Juventus sta facendo il suo senza chiudersi dietro dopo l'1-0, si vede che Vlaovic è tornato proprio più sereno e il suo lo fa, quindi è tutto rapportato, è tutta una conseguenza, chiaramente, quando giochi in squadra. Dovevo dire un'altra cosa, sì, insomma, una Juve che poi nel secondo tempo, cosa molto importante, non si è richiusa poi dietro dopo l'1-0, ma ha continuato ad attaccare, ha continuato ad essere più propositiva, ha continuato a fare il suo, e questo speriamo, ripeto, come ho detto in inizio video, speriamo che questa cosa si tramuti in una cosa definitiva da qui alla fine della stagione, con sempre meno cortomusi, sempre meno Juve che dopo il vantaggio si chiude dietro cercando di sfruttare la ripartenzina, mentre vogliamo vedere una Juventus, come anche dicevo all'inizio della stagione, che dopo aver fatto l'1-0 deve mostrare la sua superiorità a maggior ragione perché quest'anno non c'ha le coppe, quindi la Juventus deve sfruttare il fatto di essere più fresca durante la settimana per arrivare in quell'unica partita che c'ha a settimana ed arare il campo, letteralmente arare il campo, fare il suo, fare due, tre, quattro gol all'avversario e rimandarlo a casa, chiunque esso sia, che sia l'Inter, che sia il Lecce, che sia la Lazio. La Juventus quest'anno, lo ripeto dall'inizio dell'anno e lo ripeterò fino alla fine, deve fare questo. Quindi la Juventus stasera non la esaltiamo perché stasera ha fatto il suo, però sicuramente gli vanno riconosciute delle cose che rispetto alle ultime partite, specie del scorso anno, del 2023, scorso anno solare, perché abbiamo finito l'anno sostanzialmente con due cortomusi, con Frosinone e Roma, 2-1 rispettivamente e 1-0. Ivan ha riconosciuto il fatto che comunque la Juventus non cerca più di chiudersi dietro e di aspettare la botta fortunata per un eventuale raddoppio, ma cerca di giocare anche dopo il gol del vantaggio. E questo, ripeto, spero che sia una cosa che si possa vedere da qui fino alla fine della stagione per il più possibile, ovviamente. spero per tutte le partite da qui al termine della stagione. Questo è il quanto. Prendiamo questi tre punti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, buonanotte e fino alla fine sempre Forza Juve. Dai! Grazie a tutti.